Marco Tarantino, giornalista, scrittore estremamente prolifico, una penna brillante e ironica, la sua ultima fatica letteraria dal molo e memoria di un vecchio sarago, edito da Cosmopolis Media. Il tema ricorrente dei tuoi libri, ho notato Marco, così anche in Fratelli della Costa, è appunto il mare, forse perché lì la tua genesi, la tua origine? Se non riconosciamo il mare che è dentro di noi, noi che siamo persone di mare, vuol dire che abbiamo smarrito la nostra identità. Io non scrivo soltanto di mare, ma come si fa a dimenticare se stessi, è una cosa inconcepibile per me. Banana Yoshimoto scriveva, nelle città senza mare, chissà chi si rivolge alla gente per ritrovare il proprio equilibrio. È così anche per te? Pensa allora invece alle città con il mare, perché questa è una poetica che portiamo avanti da parecchio tempo. Taranto rischia di essere una città con il mare, ma non di mare. È un progetto a lungo termine. Però la letteratura non si nutre soltanto di progetto, si nutre anche di invenzione, di fantasia. E sono i compagni di viaggio che portiamo appresso. Uso volutamente il plurale perché senza il mio amico e fratello Vincenzo Carriero, che questa volta è anche editore, senza il mio part Gabriele Benefico, non ci sarebbe sogno e quindi non ci sarebbe libro, non sarebbe in piedi. La pesca, le donne, il gioco, i vizi, riconducono ad certi autori, Org Amado, Gonzales Ledesma, Alvaro Mutis. Da qui la tua ispirazione? Vorrei avere tutti i loro vizi e tutte le loro donne, sinceramente. Proprio Mutis scrive, il Mediterraneo non è solo geografia. Per te cosa significa il Mediterraneo? Aver voglia di dipingere il vento come il pittore di una storia di Mutis, in trittico di mare e di vento. E forse ne riparliamo. Tutte le persone che lavorano con me e che fanno parte spesso anche dei miei libri hanno questo sogno. Magari non sempre ci riescono, però dipingere il vento, che roba. Il tuo libro si articola su più livelli interpretativi, cioè il mondo del mare, i pesci pinneggianti, così come li definisci, gli strumenti del pescatore navigato e poi un sottobosco personale con vari passaggi intimisti e un cenno continuo alla figura paterna. È una sorta di memoriale questo libro? Non potrebbe essere più lontano da me il protagonista. È uno e 93, ha gli occhi azzurri, ha due figli grandi, lavora all'Inps, vive in un bilocale in provincia. Non c'è un unico punto in comune con me, tranne che lui creda nella poesia della pesca con il dito. Questo sì. Per il resto è una trama che si sviluppa a sé stante, giorno per giorno, in un confronto scontro, che è più un dialogo in realtà. Tra il suo diario è quello di questo vecchio sarago che è venuto a trovare riparo, quiete, in un porticciolo, che di fatto è questo, dove siamo oggi meravigliosi. Io lo chiamo il Sant'Elmo perché è una sorta di trasposizione e non Sant'Eligio, perché non mi piace lucrare sulla tarantinità spicciola del quartierino. Ci sono anche tematiche ambientali che potrebbero appartenere anche a un'altra città, ma la trama non è autobiografica. Ci sono cose che io conosco e quindi le porto con me. È il solito discorso. Tu come tieni la forchetta? Per come sei. Quindi uno ti riconosce per come tieni la forchetta. Non stai raccontando te stessa, sei semplicemente te stessa. In un passaggio scrivi cosa pensi di voler imparare abbastanza per non essere di peso, per essere decente. Per essere decenti cos'è necessario aver imparato secondo te? L'umiltà. Nelle memorie del 20 ottobre si legge Allora piansi anch'io, ma non per contagio, non per dolore. Non posso farlo entrare tutto quel dolore, era talmente grande che avrebbe ucciso anche me. Scrivere è un modo per esorcizzare il dolore, secondo te? Anche. Scrivere tante cose. È come avere una compagna. A volte tira più uno, a volte tira più l'altro. Nell'ambito di una convivenza ci sono troppe fasi in una giornata. Nell'ambito dell'ultimo periodo più che mai è stato terapia come mai nella mia vita. Però questo lo conoscono tutti quelli che scrivono. Diversi sono i monti di saggezza, anche piuttosto ironici all'interno del libro, con un linguaggio colorito ed efficace, devo dire. Ad esempio quando scrivi Un uomo è padrone della sua storia, è schiavo della sua idiozia. Non troviamo mai, secondo te, riscatto dai nostri errori, dalle nostre personali idiozie? Dai nostri errori troviamo tanto riscatto, dalla nostra idiozia mai. Nell'epilogo, citando i versi della ballata di Courage, scrivi E mille e mille cose da schifo continuano a vivere, compreso me. Ricorda un po' Mutis quando dice che non credeva negli uomini come specie. Questa è la sintesi delle nostre biografie, del nostro passaggio, secondo te? No, ricorda la traduzione fatta da Ugo Pratt nella ballata del mare salato. È l'eterna recita, questo. Se dimentichiamo che questa sia sempre l'eterna recita, vuol dire che viviamo in vano. Dal mare qual è il più grande insegnamento che secondo te possiamo apprendere e che un po' esplicita la sintesi del tuo racconto? Che ci mettiamo davanti a lui e non siamo niente. E se poi andiamo via avendo perso memoria, vuol dire che abbiamo sprecato tutto. L'ho accennata prima, però, come dicevo, questo libro non sarebbe libro. E io sono felice perché il mio ottavo parto e quindi quando esce un figlio tu sei contento. Ma ancora più che per me stesso sono felice per i miei compagni di viaggio. Per Gabriele Benefico, perché quando ho girato il PDF che Vincenzo mi ha fatto girare, in tutta Italia e anche oltre, amici, persone, la prima cosa che hanno detto è stata che meraviglia questa copertina. Non basta essere tecnicamente bravi. A nessun livello, che sia vita, calcio, giornalismo, illustrazione, arte, la tecnica non serve a nulla se non hai il terzo occhio, se non hai la capacità di regalare una visione, di incarnare e di regalare una visione. E poi sono felice per il mio amico fraterno Vincenzo perché avendo vissuto con lui tutto l'itinerario, il percorso di Cosmopolis, pensare che in così pochi anni un amico a maggior ragione riesca a realizzare questo, cioè una testata di così tanto successo e mettere insieme una web tv e arrivare a produrre anche dei contenitori e addirittura un cartaceo alla fine, che non è la chiusura di un cerchio, è il completamento di un percorso, mi rende ancora più felice perché adesso ci lavoro anche insieme. E una parola devo assolutamente dirla anche perché abbiamo lavorato bene con Stampa Sud e la redattrice che ha curato questo lavoro vi si è dedicata, non semplicemente per lavoro, ma con una professionalità, con un amore, parlo di Maria Fico, appunto di Stampa Sud, che ha permesso che questo libro venisse al mondo sotto le migliori premesse, che come Vincenzo penso potrà dire, vorrà dire, si stanno anche realizzando. Per cui non comincerebbe il viaggio senza questi compagni di viaggio, non devo prendermi i meriti che non siano miei, ma esaltare di questi fratelli, di questi pard. Il libro di Marco è edito da Cosmopolis Media, in realtà è la prima volta che un giornale, appunto Tarantino, edita un progetto di questo tipo, quindi prima il giornale, web, poi la tv, e adesso una casa editrice. Sì, come diceva bene Marco prima, il proseguo di un discorso, di un ragionamento avviato qualche anno fa, io sono molto contento che questa opera possa portare la firma di un amico e di una persona che stimo molto e che ritengo essere veramente valore aggiunto, non soltanto per questa città, ma per la scrittura, la parola, la letteratura, le nostre realtà territoriali. Sono contento che questa operazione si possa configurare con Marco, perché è l'avvio di un processo che spero possa portarci lontano e anche possa far sì che questa azienda consegua risultati sempre più importanti. Il libro partecipa anche alla diciannovesima edizione del Festival del Libro Possibile dall'8 all'11 luglio a Polinaio a Mare, una ripartenza dopo l'isolamento dalla pandemia e quest'anno è dedicato ai viaggiatori del tempo e dello spazio. Ospiterà nomi di grande prestigio, ne citiamo giusto alcuni, David Lewitt, Javier Serkas, Luciano Canfor, ancora Ferruccio De Bortoli, ma anche il procuratore della Repubblica di Catanzaro Gratteri, Pietro Grasso, magistrato già presidente del Senato. E tra gli altri anche il nostro Marco Tarantino. È un appuntamento importante, prestigioso. Quest'anno riusciamo ad avere un autore del posto in una kermesse così prestigiosa. Qualcuno la definisce la più importante rassegna letteraria del Mezzogiorno d'Italia che si tiene nei periodi estivi. E quindi è un motivo di soddisfazione. Noi siamo nati praticamente oggi e domani ci apprestiamo a fare un'operazione così importante. Merito dell'opera, perché è stata letta da parte degli organizzatori, è stata ritenuta un'opera valida. e quindi non potevamo avere un esordio più fortunato e anche un esordio più prestigioso che non fosse quello appunto, che ci porterà l'8 di luglio a presentare questo libro nella magnifica piazza di Polignano a Mare. Una rassegna, come dicevi tu, con grandi nomi del mondo della cultura, del giornalismo e della letteratura. Dunque, in sintesi, l'informazione e il giornalismo un'altra via per incoraggiare l'imprenditoria culturale? A qualche tempo fa un ex ministro della Repubblica disse che dalla cultura non è possibile campare. Io ritengo che invece un paese come il nostro, con le nostre tradizioni, con le nostre capacità che sono state sempre riconosciute a questo paese, alle sue intelligenze, deve invece pensare alla cultura come un segmento importante dell'attività imprenditoriale. È chiaramente un'attività sui generis, perché dalla cultura, qualcuno lo diceva prima, se non c'è una visione diventa difficile anche conseguire dei risultati economici. Però stiamo attrezzandoci in tal senso, è importante perseguire questo tipo di strada, avendo persone così brave, competenti come Marco Tarantino, e voglio anche io associarmi a quanto detto da Marco, vorrei fare i complimenti a Gabriele Benefico per questa bellissima copertina, che secondo me farà parlare molto anche nei prossimi mesi. Gli organizzatori di Polignano sono rimasti letteralmente estasiati da una copertina così ben congeniata, dove c'è capacità, dove c'è anche un elemento di lettura, secondo me, molto interessante, che lascia parlare ancora prima delle parole che sono quelle che poi Marco ha rappresentato, anche con le immagini. Quindi un ringraziamento a Marco, un ringraziamento a Gabriele, e poi un ringraziamento all'intera redazione di Cosmopolis, perché questi risultati è possibile raggiungerli con il contributo di tutti, e non soltanto con le idee a volte anche un po' bislacche di qualcuno. Gabriele Benefico, illustratore di questo splendido libro di Marco Tarantino, dal molo in memoria di un vecchio sarago, diciamo che la copertina di questo libro è davvero splendida, i colori ovviamente rispecchiano l'idea, insomma, immaginifica all'interno del racconto, che ci riporta appunto nell'ambiente del mare. Immagino che sia stata questa l'ispirazione, il motore della tua arte in questo progetto. Sì, l'ispirazione è l'entusiasmo di Marco, che ti coinvolge in una maniera unica. Infatti credo che siano pochi, nella mia esperienza, gli editori e gli autori, che coinvolgono l'illustratore della copertina come parte del processo creativo. Quindi solo l'entusiasmo nel raccontarmi in breve la trama di Marco, già avevo in mente questa immagine. Quindi lavorare così è facile. Grazie a tutti.